Tradito dalla fiducia in un collega che aveva offerto il suo aiuto economico, un commerciante di abbigliamento di Cava dei Tirreni ha deciso poi di riporre la sua fiducia nelle forze dell'ordine e denunciare episodi di usura di cui è stato vittima dal 2011. Un prestito da mezzo milione di euro, di cui aveva già restituito 700 mila euro solo per gli interessi dovuti e calcolati, con tassi sempre superiori al 100%. Nel 2018 la decisione di rivolgersi alla DIA e collaborare fino a far calcolare con precisione interessi errate con consegna di denaro anche fino a 10 mila euro al mese dietro minacce e violenza da parte di 5 indagati. Oggi gli arresti, una persona già in carcere con l'accusa di usura ed estorsione e un altro va ai domiciliari. L'inchiesta ha messo in luce un'usura criminale, professionalizzata, sistematica e scientifica, l'ha definita il PM senatore che ha riferito che al momento dell'arresto questa mattina sono stati rinvenuti anche 24 mila euro in contanti nell'abitazione di uno degli indagati. Io direi che è stato decisivo il contributo fornito dalla persona offesa. È una vicenda paradigmatica da questo punto di vista perché dimostra che quando la persona offesa decide di rivolgersi alle istituzioni facendo questa scelta di campo fondamentale a favore delle istituzioni le istituzioni arrivano e sono in condizione di intanto formulare delle imputazioni robuste e di garantire poi alle persone offese come è accaduto in questo caso alla persona offesa quelle tutele che la legge anti-usura, anti-racket prevedono. Le richieste estrusive venivano in maniera verbale facendo però dei riferimenti molto allarmanti alla personalità dei soggetti che erano interessati a ottenere le istituzioni. Parliamo di soggetti che avevano a loro volta dei pregiudizi importanti e proprio questa fama criminale veniva utilizzata come leva per dare maggiore spessore alla frase intimidatoria. Ma devo dire che sì, verosimilmente non deve essere un caso isolato. Nel nostro caso è accaduto esattamente questo. Il rapporto nasce come rapporto commerciale e poi si allarga il rapporto usurale probabilmente anche per tutelare crediti originariamente nati nell'ambito commerciale. Io direi proprio di sì. Noi come direzione distrettuale antimafia di Salerno nell'arco degli ultimi 18 mesi abbiamo portato avanti indagini complesse che avevano oggetto reati di usura e di estrusione. Tra l'indagine che abbiamo chiuso nel settembre 2018 e per la quale abbiamo il processo attualmente in corso e questa ulteriore vicenda odierna io credo che parliamo di almeno 20-25 persone che sono coinvolte soltanto come persone offese. Ovviamente tenete conto che è un fenomeno molto difficile da far emergere e direi che davvero i dati sono molto molto allarmanti da questo punto di vista. Esattamente abbiamo potuto ricostruire anche grazie alla consulenza ma consulenza che è stata precisa proprio perché precisi sono stati i dati prodotti dalla persona offesa tassi che in alcuni casi sono andati al di sopra del 300% annuo 150, 112, 116%, tassi annuo piuttosto elevati.